Chi è Elena Prestes, la moda, express, l'amicizia con Nikita Pelizzon? Elena Prestes è una concorrente della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Di origine brasiliana è una modella e aspirante attrice. E nota al pubblico televisivo per aver partecipato nel 2022, in coppia con Nikita Pelizzon, a Pechino Express. Nome e cognome, Elena Prestes. Luogo di nascita, San Paolo, Brasile. Data di nascita. 16 luglio 1990. Altezza, 1 metro e 79 centimetri. Professione, modella. Segno zodiacale, cancro. In Brasile Elena Prestes ha giocato in una squadra di basket locale, ma il suo sogno è sempre stato quello di affermarsi nel mondo della moda. Per questa ragione ha lasciato la carriera nel mondo della palacanestro e intrapreso quella da modella. inizia a girare per il mondo fino a quando si stabilisce in Italia. Col tempo inizia anche l'attività di stilista e di insegnante di yoga. Debutta in televisione nel 2022, quando in coppia con Nikita Pelizzon partecipa a Pechino Express. Insieme formano la coppia Italia-Brasile. Per un soffio non riescono a raggiungere la finale, vengono eliminate durante la penultima puntata. Tra le varie reazioni all'annuncio di Elena Prestes come nuova concorrente all'Isola dei Famosi ci sono quelle di alcuni personaggi famosi. In bocca al lupo guapa, le scrive Elettra Lamborghini, mentre le supporter di Nikita assicurano, la faremo arrivare fino alla fine. Alcuni, invece, non nutrono una grande simpatia dopo la sua partecipazione a Pechino Express, sarà difficile farci cambiare idea dopo Pechino. Sleale, antipatica e con una punta d'isteria. Sicuramente barerà anche alle prove sull'isola e poi giù a piangere. Nell'estate del 2022 Elena Prestes ha vissuto una breve storia d'amore con Antonino Spinalbese. Ex di Belen Rodriguez nonché concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. In Brasile Elena Prestes è cresciuta in una zona molto povera della città di San Paolo, al confine con le favelas. A due sorelle, Mariana e Livia, quest'ultima è un'attrice teatrale. Arrivata a Milano ha adottato un cane di nome Ami. Saranno in tutto 16 naufraghi della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, in onda dal 17 aprile su Canale 5. Sei di questi parteciperanno in coppia, Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone. Marco Mazzoli e Paolo Nois dello Zoo di 105, e Ialisse. Tra gli altri concorrenti spicca il nome di Cristina Scuccia, video. Ovvero l'ex or Cristina vincitrice di X Factor. Secondo alcuni rumor, Pier Silvio Berlusconi sarebbe intervenuto in prima persona per fare delle modifiche sul cast dell'Isola dei Famosi. Per evitare così una posibile svolta trash. Sous pot eu sa star, acum ca nu, nu, nu mai am nimic de ascuns. Pot sa ma sus tot mai sus, mai sus, tot mai, tot mai sus, tot mai, tot mai sus, tot mai sus. Si poate-ti dau totul peste cap, ca poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu ma-mbrac la costum, poate nu spun minciuni, sunt liber sa fiu stapan. Pe ce fac si ce spun, stii? Nimic nu mai e la fel, copilaria s-a maturizat sever. S-a lovit pana acum de fel, de fel, de oameni, de pareri, anti pur de caracter. Si vad cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți.